Ragazzi, che qualifiche straordinarie! Non ci credo a ciò che è successo qua in Azerbai, Azerbaijan, io ho sempre detto Azerbaijan, infatti non si dice Azerbaijan, ma Azerbaijan. Bello a tutti ragazzi, eccoci qui con un nuovissimo post qualifiche di Formula 1 attualmente. Primo c'è Charles Leclerc, Charles Leclerc, Charles Leclerc, Charles Leclerc. Secondo c'è Lewis Hamilton, terzo Verstappen, quarto Pier Kassli, Pier Kassli. Quinto c'è Carlos Sainz, io penso ragazzi che può prendere il podio. Sesto c'è Lando Norris, settimo Carlos Perez, come cazzo si chiama? Carlos Perez, no. Sergio Perez ragazzi ha avuto un lapsus. Ottavo ragazzi, a sorpresa, Yuki Sunoda che si qualifica al suo primo Q3. Nono c'è, a sorpresa anche lui, Fernando Alonso. E decimo c'è Valtteri Bottas. Ragazzi, adesso, ultimo minuto e trenta. Squadre negli spogliati, ma che cazzo sto dicendo? Leclerc adesso cercherà di fare probabilmente un altro miglior tempo per andare verso più la pole, ma ragazzi già ha fatto un super tempo. Io pensavo che fosse un tempo così buono, ma vediamo se lo tiene fino alla fine. Si ritorna qua a Baku dopo un anno di assenza per il Covid. Ragazzi, poi c'è stata anche l'assente. Quest'anno non ci sarà il GP di Singapore come l'anno scorso rinviato a causa pandemia Covid 2019. E adesso, sul volume, si parte per questo ultimo minuto di Q3. 50 secondi per le... neanche 45. Adesso, attenzione, la Red Bull ha un po' un problema? O no? Forse ha una curva troppo tranquilla. E adesso, sul volume, ci siamo. Max Verstappen. Adesso, ultime curve. Vedremo cosa farà registrare nel prossimo tempo che verrà effettuato dal portiere. Ma che cazzo mi sono fumato? Dal pilota monegasco, ovviamente. Un certo. Olandese. Adesso parte il giro dell'olandese. Max Verstappen che va subito su curva 1 e si va verso il primo rettilineo di questo... Attenzione! Bandiera gialla! No! No! Carlo Sainz! Carlo Sainz! Carlo Sainz, ma un Alfa Tauri! Clamoroso! Un'altra bandiera rossa dopo le 3. Una da parte di Giovinazzi, l'altra in Stroll, l'altra in Q2 di Ricciardo. E adesso bandiera rossa causata da Carlo Sainz che rompe l'arrettone e da Yuki Sunoda. Se non l'ho visto male, vediamo un po' cos'è successo a Carlo Sainz. Vediamo un po'. Vediamo qua. Vediamo, forse... Ragazzi, mi sa che l'ha schiacciato. Non ho capito se è stato Gasly o Sunoda a fare l'incidente. Fatto sta! Sessione stoppata! Primo chance! Teniamola, Paul! E domani partiamo primi! Vediamo un po' qua chi è stato. Numero 22, che mi sa che... No, è Yuki Sunoda. Sto per dire che era Pierre Gasly. Va a muro! Un po' come tutti gli altri, questa... Questo l'incidente di Carlo Sainz! Bruttissimo l'incidente di Carlo Sainz! Signori, ha bruciato la gomba! Brutto! Bruttissimo! Ma ci vediamo dopo col Moto2, poi MotoE e poi stasera Serie A di basket. Bella!